Ciao, io sono Giorgio Taverniti e per Search on Media, gruppo che mi occupo del Forum GT, e curo una rubrica su YouTube che si chiama Fast Forward. Oggi per l'iniziativa ilfestival.it slash insegnanti ti parlerò di come usare YouTube in classe. Questa piccola lezione sarà composta in tre parti, perché è il più usato come ambiente sociale, la piattaforma e le opportunità che ci sono in questa piattaforma. Allora, perché è il più usato? Facciamo questo breve escursus teorico di quello che è stato YouTube, giusto per capire a che punto siamo, potrebbe essere utile a molti. Il primo video su YouTube è fatto dal Jawed Karim nel 2005, dove lui ha lo zoo, e si chiama Meet at the Zoo, e quindi Meet at the Zoo, io ha lo zoo, e poi potete praticamente andarlo ancora a vedere perché è online. Sono passati tanti tanti anni e uno degli ultimi video del 2019, che è stato fatto 6-7 mesi fa, è quello riguardante le lezioni europee. Mi ha fatto un po' sorridere perché veramente c'erano tutto il dibattito per il presidente su YouTube in tempo reale con un link alla home di Google direttamente. Siamo passati su YouTube da avere solo amatoriali a tutto il mondo. Praticamente YouTube è diventata, nell'arco di questi anni, la TV del mondo. E ha fatto proprio un boom perché i numeri sono veramente impressionanti. Giusto per inquadrare un attimo quella che è questo ambiente sociale, e per capire anche da un punto di vista proprio anche sociologico, quello che è stato una serie di novità, innovazioni che ha portato tutta una serie di considerazioni, questo ragazzino qua è un ragazzino che ballava su YouTube tanto tempo fa, ve lo mostro velocemente, tolgo l'audio, si presenta e si mette a ballare in questo modo, mettendo poi e caricando il video su YouTube. Un ragazzino di pochissimi anni, non stiamo parlando neanche di 10 anni, questo ragazzo nel 2008 stiamo parlando, lui è nato nel 2001, quindi il video è di giugno 2008, lui è del 2001, neanche 7 anni. La cosa interessante è dove ha imparato a fare questo, perché lo ha imparato su YouTube. Quello che poi è stato insomma il termine cognato in giro, che si dice su questa grande innovazione, che YouTube accelera, i video in sé accelerano l'innovazione di massa. In tanti settori i video lo fanno, lo fanno per esempio anche nella scienza, ci sono portali dedicati solo alla scienza. Quindi YouTube ha contribuito a dare una grande accelerazione di condivisione in tanti settori della nostra vita, come l'arte, la danza, musica, film, il corpo, sono nate dei nuovi stili di danza che prima non avevamo. Non è un dato che va dato, insomma, così per scontato il fatto che 15 anni fa c'erano molti meno insegnanti, divulgatori e roba varie che facevano informazioni. Quindi YouTube secondo me passerà come una grande rivoluzione al pari di internet stessa, i video al pari di internet stessa. È molto interessante vedere i dati che abbiamo oggi a disposizione, perché ci dicono che per alcune fasce di età, in America per esempio YouTube è il brand più amato in assoluto. E quando lo andiamo a comparare ai top brand di sempre in America, YouTube senza scalare, diciamo, senza essere nelle fasce di età, di qualsiasi tipologia di età, da 18 a 64 anni, dopo Disney, Apple, Amazon, eccetera, eccetera, c'è YouTube, l'unico ambiente sociale a comparire. In Italia sono molto interessanti i dati che sono usciti in questi giorni, Vincos ha fatto questa elaborazione dove dice che YouTube ha 36 milioni di persone, più di Facebook e di tutti gli altri, e anche i WeAreSocial dicono che YouTube è quello che ha un engagement più alto, il più usato, diciamo così, rispetto a tutti gli altri. Ma perché è il social più apprezzato dai ragazzi? Perché sostanzialmente, da tutte le indagini che emergono, eccetera, eccetera, le persone si aggregano, no? Secondo quella che è la loro somiglianza, quindi molte volte i ragazzi dicono io seguo questo YouTuber perché mi capisce, parla il mio linguaggio, ha i miei stessi problemi, e quindi c'è una sorta di amicizie che si crea, si affezionano, non sono delle vere e proprie star, sono proprio amici. Per qualcuno sono veramente un amico, in tanti è scoppiata la moda del giocare online, noi dicevamo sempre, cavolo, quando eravamo piccoli giocavamo tutti insieme, oggi si sta sempre più in casa, molti sono figli unici, e quindi si crea questo tipo di legame, si crea questo tipo di legame. Allora, il social più usato dai ragazzi, questo per esempio è Favij, giusto per darvi anche un inquadramento, alcune cose molto importanti. La qualità non è oggettiva, non esiste una qualità oggettiva, è sempre legata a quello che stai facendo, alle persone, quindi non possiamo dire che un video ha una qualità più alta rispetto a un altro. Usano un linguaggio che è il loro linguaggio, di fatti i ragazzini molto giovani, le persone che per esempio hanno, facciamo 13 anni, quando vanno a usare YouTube e a cercare delle cose relative a loro, trovano video di altri ragazzini di 13 anni perché parlano quel linguaggio. Il montaggio è veloce, il video intrattiene, li tiene proprio incollati. Questo è un esempio molto forte di quello che può essere l'intrattenimento, è cambiato tutto. Ora, la piattaforma, perché? Finora abbiamo visto perché funziona, no? Perché funziona YouTube. Ma la cosa interessante è come usarlo in classe, cosa si può fare, cosa non si può fare. Voglio darvi qualche spunto. Allora, la piattaforma in sé non è difficilissima, però vi spiego all'inizio qualche cosa, poi vi porto anche degli esempi. Per tutto quello che volete potete lasciare un commento sotto al video e magari creeremo anche degli altri video di approfondimento. Abbiamo la Home, dove nella Home compaiono i video consigliati per te e gli ultimi post delle persone che segui, perché YouTube ha la possibilità di creare anche dei post per i canali che hanno un numero di iscritti importante, offre questa possibilità, quindi vedi i video consigliati e i post che hanno fatto. Poi le iscrizioni, perché tu ti puoi iscrivere al canale, quindi puoi seguire tutti i nuovi video di un determinato canale. La ricerca, molto importante, con tutti i suggerimenti di ricerca e tutti i video relativi a quello che stai cercando. Si dice che YouTube sia il secondo motore di ricerca al mondo dopo di Google. Poi abbiamo i filtri di ricerca. Una volta che tu hai cercato una parola, puoi cercare per esempio dei video lunghi, superiore ai 20 minuti, no? Oppure puoi cercare altre tipologie della posizione e tutta una serie di altre cose. Le storie, anche YouTube ha le storie con i quali i creator si tengono in contatto con il proprio pubblico. Le tendenze, dove ci sono i video più visti anche per categoria, notizie, film, moda, musica. E poi tutta una serie di cose. Allora, vediamo qualche funzione utile da usare, che viene usata di solito. Una delle prime è il fatto che ogni canale ha una ricerca interna, quindi se io vado per esempio nel canale della Treccani e cerco San Francesco, mi trovo a tutti i video dedicati a San Francesco. Questa è un'opzione che di solito non viene troppo presa in considerazione, ma ci sono canali che hanno 10 anni di attività e quindi ci sono tanti video. Se volete trovare per esempio dentro la Treccani, dentro Zanichelli, dentro un canale di un professore, qualcosa di speciale, potete usare la ricerca interna. Un altro degli strumenti interessanti è sul player. Il player, una volta che voi cliccate con il tasto destro da desktop, avete la possibilità, per esempio, di andare a stabilire tutta una serie di cose, tra le quali quella della velocità. Cioè, voi potete dedicare e dire che un video può andare più lento o più veloce del solito, ci sono vari parametri, e tenete in considerazione che molti dei ragazzi vanno ad una velocità di 1.5, cioè vanno molto veloci rispetto a quello che è il linguaggio classico, quindi abbiamo l'1.25, l'1.5.2, 0.75, 0.5.25. È molto interessante anche andare a rilento a secondo del video che si sta guardando. Si può far partire un video ad un minuto preciso, se voi volete condividere con la classe un determinato video che parte ad un minuto preciso e non tutto il video, potete fare, una volta che siete al minuto 25.51, potete cliccare su Copia l'URL del video in corrispondenza del minuto corrente, questo menu appare dopo che voi avete fatto clic con il tasto destro sul video, e quindi vi crea un'URL, una pagina dedicata che manderà ai ragazzi semplicemente al minuto 25.51 secondi di questo video. Un'altra cosa interessante che può diventare utile in classe sono tutte le traduzioni. Ovvero si può andare alla ricerca, questo è Veritasium, un canale che condivide un sacco di informazioni sulla scienza, in lingua inglese, ma si possono vedere alcuni video che hanno i sottotitoli anche in italiano. Quindi usufruire dei video di altre nazioni può essere molto interessante, di altre lingue. Addirittura una cosa molto utile che può essere fatta anche come esercizio in classe con i ragazzi è quello di poter aggiungere le traduzioni. Quindi immaginate di voler fare il training in lingua inglese, per esempio, potete fare aggiungere traduzioni e compare per ogni minuto e secondo quello che lui sta dicendo in inglese e si può tradurre in italiano. Questo contributo poi viene approvato, può essere utile per tutte le altre classi, può essere utile come esercizio, può essere utile perché si contribuisce alla community. E quindi diventa interessante. Ovviamente se invece la classe ha un canale YouTube o un professore ha un canale YouTube si può fare anche il contrario dall'italiano alla lingua inglese, per esempio. Sono tutti esercizi molto molto utili per chi deve imparare le lingue, insomma. YouTube consente di tradurre non solo i sottotitoli, ma anche, per esempio, il titolo e la descrizione del video in più lingue. Questo quando voi siete i proprietari. Invece sui video di altri potete solo contribuire andando a tradurre i sottotitoli in sostanza. Le opportunità che ci sono oggi. Che opportunità ci sono oggi? Come si può andare a usare? Secondo me una delle opportunità più interessanti sono quelle di avere un canale condiviso con la classe. Ora, mentre ci sono tanti insegnanti che hanno il proprio canale YouTube ed è utile ed è interessante, ve ne mostrerò qualcuno alla fine, io credo sostanzialmente che creare un canale condiviso possa aiutare i ragazzi a fare esperienza di tante cose. E quindi guidare i ragazzi in questa cosa qui può essere interessante. Come creare un canale, come si registra un video, tutte queste cose che loro sanno già fare e quindi può essere uno scambio molto molto importante. I ragazzi imparano tanto tra di loro ed è molto bello vederli collaborare. Avere un canale per i propri studenti può essere sicuramente qualcosa di utile andando a creare video tutti insieme. Alcune cose che ci sono da sapere per l'impostazione del canale è il fatto che ci sono delle opzioni che io chiamo di chiusura al mondo ovvero che si può scegliere di mantenere privato tutte le playlist e tutte le iscrizioni che quel canale fa perché magari con la condivisione non volete che si vedano determinate cose, è possibile farlo. Si può andare a agire sul canale scegliendo le persone che possono per esempio non commentare o che possono sempre commentare o addirittura i moderatori. Pensate quanto è bello insegnare ai ragazzi delle scuole la possibilità di diventare un moderatore, di controllare i commenti degli altri e decidere se approvarli o no. È un processo molto interessante, anche questo fa parte dell'esperienza che si può fare all'interno di YouTube, si possono imparare veramente tante cose. Inoltre ogni canale può avere più ruoli, quindi una volta che si è identificato chi è il proprietario si può andare a dire per esempio una cosa che si può fare inserire un utente, una persona che fa parte della classe come editor o come visualizzatore per leggere i dati o semplicemente addirittura come gestore quindi si possono andare a creare anche più livelli. Opzioni possibili per il video, invece i video possono essere pubblici, privati li vedono solo i proprietari oppure non in elenco cioè li vedono solo le persone che hanno il link per alcuni video magari può essere interessante. I video sopra una certa soglia possono venire monetizzati ma all'inizio quando si apre il canale non si ha la monetizzazione servono 1000 iscritti e 4000 ore può essere anche questo un buon spunto diciamo. Una cosa invece molto importante è la categoria saper scegliere la categoria giusta del video che si sta andando a fare l'upload è importante. Inoltre abbiamo la possibilità, vedete, di decidere che tipo di commenti mostrare mostra tutti i commenti, mostra solo previa approvazione oppure disabilita totalmente i commenti ci sono tutta una serie, insomma, di opzioni importanti le stesse playlist che si fanno a creare possono essere pubbliche, non in elenco e private anche questo le playlist sono le raccolte di video. Un'ultima cosa da sapere per i video all'interno del creator studio di YouTube ci c'è quante le persone stanno attente al video e questo diventa molto interessante per i ragazzi andare a studiare questa cosa ma anche per gli insegnanti riuscire a capire quanto gli alunni stanno attento al video è importante. Si è notato, ci sono tutta una serie di dati sui video della Flipped Classroom vi riporto questa esperienza, diciamo così poi potete andarci a guardarla che la lunghezza incide tanto il problema però, dal mio punto di vista è che la maggior parte dei video che sono pensati per ragazzi sono fatti da persone che non parlano quel linguaggio sono molto lenti i ragazzi di solito si annoiano da questo punto di vista poi dipende sempre da che classe c'è tutta una serie di tantissime considerazioni però è importante saper riuscire anche a registrare un buon video e cercare di tenere l'attenzione alta è un aspetto ed è una competenza sicuramente importante ovviamente se i ragazzi sono interessati se lo guarderanno tutto al massimo metteranno la velocità a 1.5 chiudiamo questo video con una segnalazione di una serie di canali interessanti che possono esservi di aiuto, di spunto che sono uno, Elia Bombardelli professore di matematica che fa tutte le lezioni Elia probabilmente è il professore più conosciuto su YouTube ha 270.000 iscritti e i suoi video sono visti anche da oltre 100.000 persone insomma è un video è una persona molto in gamba molto preparato e da tanto che è su YouTube che fa le lezioni poi abbiamo Dario Bressanini lui non è un professore ma è un ricercatore presso l'università degli studi non so se nell'Insumbria è a Como e ha tantissimi iscritti conosciuto, chiacchierato tantissimo fa dei video molto belli anche lui è un grande divulgatore poi abbiamo video lezioni NCA è un professore in pensione che parla di tutta una serie di cose può essere interessante come spunto abbiamo Chiara Spalatro che è una professoressa in questo caso vedete i video l'Europa nell'Alto Medioevo i Germani alla fine dell'Impero Romano tutta una serie di cose sicuramente molto molto utili che possono servirvi sia come spunto sia come lezioni da ascoltare insieme Chiara Pellegrini un'altra maestra in questo caso fa tutta una serie di video per esempio i complimenti di causa fine o scopo eccetera eccetera e spiega i video in questo caso sono brevi e spiega ai suoi alunni Historical Eye che è stato consigliato da vari professori parla di storia molto bravo racconta tutta una serie di storie sia di personaggi che proprio di storia può essere molto interessante da andare ad ascoltare poi abbiamo quelli delle scuole come scuola interattiva per esempio il problema ambientale 1 e 2 con le mappe mentali eccetera eccetera va a fare tutta una serie di contenuti molto più didattici come per esempio anche 29 e lode ci sono più lezioni sono video lezioni questa è per università e scuola secondaria un altro canale che voglio segnalarvi per insomma avere un sacco di ispirazione poi abbiamo tutti i canali ufficiali per esempio Traccani Scuola con tutti i video indicati la Zanichelli che fa un ottimo lavoro anche con le interviste tutta una serie di informazioni che rilasciano il Miur Social all'account con tutte anche le conferenze e poi l'Istituto Luce di Cina Città con tutti i video insomma abbiamo un sacco di materiale su YouTube che viene poco poco utilizzato bene abbiamo visto il perché il più usato la piattaforma e le opportunità che ci sono se avete domande le potete mettere nei commenti così poi magari approfondiamo con ulteriori video vi ricordo che questo video fa parte dell'iniziativa ilfestival.it slash insegnanti vi consiglio di andarci a guardare ci sono altri video c'è la possibilità di partecipare andando a diffondere conoscenza digitale per gli insegnanti grazie a tutti